benvenuti a paleo nerd dove la passione non si è mai estinta e bentornato al caro leister quanto tempo che non ci vedevamo su queste piattaforme allora allora ovviamente l'idea è partita tutta da leister quest'idea particolare che abbiamo deciso di portare su questo canale ed era molto interessante devo dire che effettivamente non abbiamo mai trattato e o fa una diciamo sul lato proboscidati per quanto fa una sia effettivamente celebre per questi grandi mammiferi da dove ti è venuta quest'idea quindi allora io un paio di anni fa ho dovuto fare una specie di presentazione di un articolo scientifico per l'università tutti quanti ho scelto suggerete body mass eccetera di lavamendi che in quanto ci sapevo che un articolo l'avevo letto così è in passante però con articolo molto chiaro ben scritto e che c'era parecchio materiale per cui fare una presentazione quindi ho pensato di farlo su questo articolo qui e per parentesi c'era anche pensato di prendermi come dire un elefante o fauna per festeggiare questo cioè fatta senta bene la presentazione poi non l'ho più fatto eccetera e così a fine abbiamo deciso prendere un po' questi elefanti e facciamo una presentazione anche qui per non prenderne uno li abbiamo presi tutti tutti cioè guarda quando si dice l'elefante nella stanza io in questo momento ne ho ben quattro più ovviamente tra l'altro quelli che diciamo sono doppioni perché li abbiamo presi assieme una cosa abbastanza inusuale devo dire tantissimi modellini abbiamo appunto e quindi saranno fondamentalmente un ausilio per questa spiegazione appunto sui proboscidati in generale allora tu come vuoi iniziare perché fondamentalmente una tua idea quindi io sono umile servitore in questo caso però e darò il mio ausilio appunto con i modellini io porto con farvi una presentazione perché in realtà questo è una è diciamo un'analisi dello studio c'è praticamente noi ora parliamo dello studio e useremo i modelli come ausilio per spiegarvi meglio questo studio pubblicato nel 2006 e costruisce fondamentalmente una critica ai metodi utilizzati per calcolare l'altezza e la massa dei proboscidati estinti intanto fatto con dirvi il corso nei propositati e propositati su una classe di afro terri che sono un clade che si è diversificata in africa perché l'africa fino allo ligocene è isolata agli altri continenti e tale specie attuali paradossalmente loro parenti più stretti sono scendi che sono due con gli amantini eccetera che non sono mica per niente nelle fanta quadali però decisamente bisogna dire che la loro somiglianza estetica diciamo è fuorviante comunque anche specie estite sono state ritenute erroneamente un dugongo oppure un amantino gigante invece nell'elefante ad esempio questo molto simpatico è un dei noterium che questo autore parliamo del 1830 e pensava fosse un scienze gigante che usava queste zanne inferiori per ancorarsi ed evitare far spottare dalla corrente inutile dire che insomma non è non era esattamente fatto al centro è decisamente è però comunque i primi antenati di si rendi e dei propositi dati hanno abbastanza civili tanto da essere confondibili e una prima scelta di noti è abbastanza famosa nata meriterium che sale all'ocene dell'egitto e netta a guardarlo di star basso il montapiro con l'elefante ci sono anche studi di isotopici studenti che dicono che questo animale è semiaquatico quindi in realtà i sirendi ed elefanti hanno avuto un'origine abbastanza simile possono sviluppate forme come questa che maritarium sempre dell'egitto dovrebbe essere però è un po' più tardivo l'igocene e che inizia a sviluppare per così dire una vita più terrestre dei denti un po più adatti ad alimentarsi di foglie però comunque non ha abbandonato la vita semiaquatica ma faccio poi niente che sta presentando se le fatti come gruppi perché la tassi una mia interna di proposito dati è un disastro e praticamente ci sono cladi che vengono retti con scena davanti all'altro quindi poi dite un po come gruppi non si sa se naturali o no però per modo di discussione parleremo così poi abbiamo uno dei protagonisti della diretta di oggi sono dei noteridi i noteridi sono sviluppati nell'oligocene ed erano già più simili all'olfante attuale a guardarli anche se hanno molte specializzazioni della verità probabilmente inoltre erano in qualche modo più specializzati in maniera probabilmente diversa agli olifanti attuali e per avvicinarsi sempre di più agli olifanti attuali abbiamo i mammutidi come tigolofono a cosa molto interessante si chiamano mammutidi ma sono quelli che noi chiamiamo mastodonti ecco il nome scientifico non vuol dire niente cioè ci sono i nomi scientifici dati hanno un senso del 1800 vabbè comunque c'è addirittura si purtroppo 1800 chiaramente ai periodi in cui tutti i sauropoli hanno atlantosauri in cui tutti insomma non è che che possiamo riproverare di molto comunque è vero è vero i mammutidi sono forme robuste massicce e a parte di altezza facciamo anche il doppio di una specie attuale di elefante questo è il trigolofodon o mammut bossoni che oltre a essere un'epidemia proprio scelta tutti i tempi anche le zanne più lunghe di qualunquanto animale c'è cinque metri con le zanne mamma mia discrete va decisamente è già un altro gruppo sempre più vicino alla fama attuale con i gonfoterdi per esempio lo stesso genere gonfoterium esiste dalla fine dell'oligocene a cene c'è 20 milioni di anni l'europa afghano d'america e anche 4 che si affinca sempre per quella stazza dei pelli di un esempio di una specie sono il doppio del fermo ed è tanto che genere strani questa famiglia tipo culveronis che tante spirale non ho trovato un'immagine degna per farvi capire come hanno fatto a spirale però dovete credere che hanno fatto a spirale un'altra forma asciuda questa che è il piatti bellodon a parte gli bellodonti famoso questo va bene praticamente tutti i libri divulgativi il famosissimo piatti bellodon peci sono presentati come animali semi acquatici ma probabilmente serviva questa strana mandibola serviva a recidere la registrazione bacia e anche perché anche perché all'inizio all'inizio si pensava che fosse per strappare alghe esatto mentalmente ed è quello che viene effettivamente detto in un sacco di libri vecchi compresi quelli che leggevo io ora appunto l'idea che sradicassero invece vegetazione bassa è un pochino più affermata così come vedo questa ricostruzione comunque con la proboscide lunga mentre invece no c'era quell'idea inizialmente che ce l'avesse più corta dopo di comuni come si riconosce la proboscide perché è un argomento abbastanza complesso infine per ultimi anche perché stiamo ormai parlando di forme attuali sono gli elefantidi che sono l'unico clai di elefanti che si può vivere ai nostri giorni che anche se fino all'ultimo periodo glaciali erano molto più diversificate c'erano forme temperate altre temperature rigide la tundra e comunque anche le forme più strane tipo mammuto supremigenio si è famoso mammuto lanoso è spravvissuto in siberia fino al tempi storici tipo 3000 avanti cristo tra l'altro mi ricordo questo dettaglio non mi ricordo se è una leggenda metropolitana o se diciamo ha un fondamento di persone perdute nella nella tundra siberiana che trovarono qualche resto di mammut e se ne cibarono e dissero che era una carne orrenda super gommosa ovviamente quello che so c'è anche stato un episodio in cui è stato veramente cucinato a una specie di convegno un mammut e però non ha non ha incontrato il gradimento delle della e mi sa che lo mi sa che la stessa storia di cui sto parlando c'è proprio che sapeva di copertone o qualcosa del genere addirittura leggermente andato male legger e dai voglio dire ecco ricordatevi non tutto quello che surgelate può rimanere in eterno nel freezer scongelate e consumate mi raccomando allora comunque scusami a parte questa fare niente bene bene figurati figurati allora è comunque come ho detto oggi si può fare una sorta specie di elefanti eccoli qua allora sono rispettivamente l'elefante africano di boscaglia l'elefante africano di savana e il fantasiatico di questi dato che comunque questo è un proprio dimensioni e per stima e dimensioni siamo partiti specie attuali parliamo po delle dimensioni delle fante attuali allora questo è la specie più piccola che ha le 70 ciclotesi recentemente è identificato come una specie diversa dagli dagli elefanti di savana e comunque è alto all'incirca 360 200 cm la femmina mentre due metri e venti di metri tanto al maschio e pedia tra 150 e 1500 kg femmina e 2.400 kg maschio questo invece è del fantasiaticano di savana che ha una stazza di un'altezza di 2,60 la femmina 3,20 m maschio e 4.000 kg di peso la femmina 6.000 di maschio eccezionalmente ci sono maschi che possono invare fino a circa 4 metri alla spalla il peso massimo verificato è 6.640 kg infine questo è il fantasiatico che si aggira sui 2,40 m la femmina 2,75 m il maschio 2.700 kg la femmina e 4.000 kg il maschio e allora adesso parliamo sempre di elefanti attuali perché errori nella costruzione sono stati fatti anche con gli elefanti attuali perché molti montaggi che vediamo nel museo degli elefanti sono sbagliati parliamo ad esempio dell'altezza alla spalla che è un criterio importante perché viene usato per stimare le dimensioni quando ne guardiamo un animale un elefante montato nel museo e spesso vediamo con le spine neurali che sono appunto quelle della colonna vertebrale e quelle che servono anche la colonna vertebrale più alte della scapola in realtà questo è un errore perché nella scapola sempre abbiamo un elefante in vita vediamo che si muove la scapola sotto la pelle ed è posta più in alto delle spine neurali e questo comporterebbe di alzare di qualche centimetro un elefante e adesso vediamo un attimo come si fa a stimare l'altezza di un elefante estinto perché in particoli attuali vediamo come stimare un elefante estinto si parte dalle misure dei dati perché ovviamente non basta mettere una zampa in colonna non basta mettere ossa in colonia perché le ossa come sono articolate non sono certo messe esattamente in colonia che si chiama postura colonnale quindi fondamentalmente o si prende le lunghezze articolari degli elementi cioè quelle indicate in verde sono le lunghezze attraverso cui passa l'articolazione dell'elemento ok moltiplicato per un 0,98 che è per una stima una cifra che serve appunto fa quadrare in queste misurazioni aggiungerci un 5 per cent 5,5 per cento dei stimoli oppure insomma le lunghezze massime degli elementi le frecce rosse si moltiplicano 95 perché come vedete le lunghezze massime non corrisponde esattamente appunto in cui si articolano le ossa no anche perché lì ci sono degli innesti che portano ad una curvatura poi dell'osso quindi è logico questo vale se sto parlando di un elefante tipo attuale invece se parliamo di forme per cariche e ci vogliamo applicare per 0,97 o 0,94 perché l'altro è più flesso invece questo stiamo parlando nel caso fortunato che abbiamo la zampa completa cosa c'è se non abbiamo la zampa completa allora la altezza della mano possiamo tenerla moltiplicando allora fa una bella cosa mettimi la paleocam e mettimi l'enotarium fauna e il paleoloxidolo fauna benissimo allora frontale così si si frontale si si in maniera faccia a faccia c'è che viva la zampa al di front ok perfetto allora come potete vedere le proporzioni delle zampe non sono le stesse in particolare l'altezza alla mano si può ottenere nelle forme stinte ciò dai metacarpali che sono le ossa del polso fondamentalmente posso moltiplicare il terzo metacarpale per due anni delle forme più recenti come gli elefantidi oppure per 1 75 parlando dei mastodonti perché nella maggior parte notte la maggior parte specie il terzo metacarpale tipo il 20 per cento della lunghezza del radio in denotarium che è famoso perché ha appunto la parte più distale l'alte anteriore più lunga di qualunque altro elefante stinto arriva a 30 per cento della lunghezza del radio e se la mano manca totalmente tenete conto che la mano 50 per cento del radio in un proboscidato derivato come può essere il paleoloxidon se parliamo dei notarium è 60 per cento se ci mancasse anche il radio e vabbè prendiamo proprio sui casi di sfortuna massima possiamo applicare le stesse cose all'ulna però immagini d'errore si alza e in ogni caso anche se ci fosse un immagini d'errore significativo nel calcolo della mano a me che proprio stiamo parlando di denotarium non influenzia tantissimo altezza del lato perché comunque la mano è l'elemento più corto del lato anche se parliamo di elefanti con giampe molto lunghe e stavo notando una cosa stavo notando una cosa c'è il fatto che questo dei notarium dell'eofauna appaia strano no c'è no molti diciamo è molto strano eppure fa parte un po della stranezza di questo di quest'animale è molto interessante il fatto che l'eofauna si è stata attentissima no su questo su questo aspetto dio non c'è da aspettarsi diciamo qualcosa di tanto diverso l'eofauna però il fatto che diciamo l'immagine risulti meno familiare del solito per quanto riguarda un elefante gigante è particolare oltre alla forma ovviamente della testa i dettagli sono molto strani ci andremo più nei dettagli più avanti però ci sono animali molto particolari perché tenete conto soprattutto questi sono staccati non sappiamo ritorniamo al discorso che non sappiamo bene come siano classificati come si deve sia un abbo genealogico poi sappiamo che sono staccati molto presto e quindi sì le grandi dimensioni sono tenute probabilmente per un abbastanza convergenza che una che fossero già grandi e quindi hanno ottenuto certe soluzioni le hanno ottenute indipendentemente da telefanti adesso vediamo che sappiamo l'altezza della spalla ci abbiamo fatto tutto giusto cioè un po come calcoliamo la massa perché ci sono due modi con che possiamo calcolare ma se un animale di un animale estito per cui parliamo di proboscidati proprio strumento di possa applicare a tutto dinosauri compresi infatti sono molto usati per dinosauri allora il primo metodo è quello l'allometria ci vuoi mettermi di profilo le paleoloxidone e denotellum ecco qua allora ma sta parlando all'allometria allora cos'è l'allometria allora l'allometria il cambiamento delle proporzioni di un animale all'incrementare o diminuire delle dimensioni perché sapete pallaggio del cubo quadrato che la superficie non aumenta come volume volume il volume la superficie aumenta come volume la superficie aumenta linearmente il volume aumenta pubicamente quindi se ne abbiamo un quadrato con superficie 10 metri e ne abbiamo facciamo un quadrato con una superficie maggiore possiamo proporzionalmente trovare la superficie ma se trasformiamo così in un cubo vedremo che volume non è la stessa rapporto che sulla superficie non è il doppio se per esempio mettiamo che l'aria è il doppio non è doppio volume il volume cresce esponenzialmente questa ragione per cui gli animali più diventano grandi e più ha bisogno da solo buste perché altrimenti si spezzerebbero sotto loro peso dato che sappiamo questo sappiamo che esiste questo trend di aumentare la robustezza delle osce paragonate alle dimensioni noi costruiamo una curva a partire da misurazioni di animali esistenti vediamo cosa succede dall'altezza alla spalla come come la proporzione di altezza alla spalla e peso e teoricamente dovremmo poter trovare il trend anche per la specie che dobbiamo misurare cioè seguiamo l'andamento della curva e teoricamente noi dovremmo trovare un risultato anche per questa specie problema di questo metodo che allora se un animale problema che si va sulla robustezza di ossa se un animale per qualche ragione sua ha deciso di robustire le ossa non per la sua massa ma perché scavava perché faceva qualche altra cosa questo non se lo dice e quindi troviamo stati falsati stessa cosa è quello che succede se noi usiamo e come così dire ossa differenti e problema che se usiamo ossa diverse come base quasi c fino a 80 per cento di differenza che non è poco e per finire spesso i campionamenti questi campionamenti di per trovare questi trend vengono fatti su animali cattività gli animali cattività tendono a non avere il peso di animali libertà tendono a spesso a sé più robusti pesanti come che vive in condizioni ottimali non fare l'attività fisica l'altro metodo si chiama graphic w integration e adesso faccio vedere come funziona allora il gdi invece funziona quella costruzione di modelli tridimensionali animale come vedete se ne calcola il volume dividendo le sezioni trasversali che vengono trattate come cilindria sezione elliptica io che mi si calcola di volta e volta il volume posso fare la somma e quindi si stima la massa abbiamo il volume la densità la sappiamo perché si parte da animali attuali massa uguale densità per volume è un moa giusto sì questo è un moa è l'unico gdi che ha trovato chiaramente quindi beccate moa dai fai una piccola fai giusto una piccola diciamo una piccola descrizione di moa per chi non lo sapesse che giustamente magari non tutti sanno cos'è moa è invece un animale molto interessante è moa è un uccello non volatore una tite parte di istruzzi attuali per così dire e che vive in managascar se nome le scusate nuova zelanda e fino a tempi storici e si è estinto a causa della caccia all'incirca nel 1600 nel 1600 a casa della caccia dei maori e ci stiamo a diverse specie e quali sono i problemi del gdi sono modelli quindi mentre con l'allumatia partivamo da un osso comunque con gdi partiamo da un modello e quindi è molto sensibile dell'accuratezza del modello e quindi se forme stinti sono incomplete può essere difficile creare il modello comunque se la scheda è completo immagine di errore sta di circa 10 per cento che è una misura compatibile con le variazioni di pesce un animale l'arco di un anno per può essere situazioni ormonali siccità cose del genere adesso come facciamo noi a sapere quali di questi due metodi è il cosi dire quello che dovremmo utilizzare beh è semplice perché in realtà con tutti gli elefanti sono estinti guardate queste belle elefante questo è famosissimo elefante del circo brandon trattato dal suo nome leva jumbo mail jumbo jet eccetera è il più grande elefante del mondo e scappò dal circo venne visto in un treno e quindi donato l'american muslim naturale storia triste è ancora esposto lì e l'altezza delle spalle 323 centimetri adesso se noi calcoliamo il suo peso usando i metodi che abbiamo appena visto cosa viene fuori quella la materia risulta circa sette tonnellate e mezza con gdl se tonnellate è un 20 per cento di discrepanza che tanto e gli stati gdl sono molto più vicini a massimo elefante africano che ha stessa altezza di questo esemplare quindi possiamo dire che comunque per quanto c'è il problema del modello il gdl si ha procurato ok ok questo è interessante anche che avevamo un riscontro praticamente non si può verificarlo però non stiamo parlando di un elefante che vive attualmente come facciamo a ricostruire un elefante che invece c'è stinto allora per un elefante stinto dobbiamo ne tutto di costruire accuratamente la muscolatura è sempre che potete vedere il muscolo spenius e capiti superficiali che associato alla appunto muscolo che serve a sorveggere enorme testa degli elefanti e vediamo soprattutto che è più sviluppato del fanta indiani e ha molto sviluppato che certe forme stinte tipo palleroxidon che appunto quel cane blovato c'è ma caratteristico si appunto altro aspetta che era mostrare il cranio ecco guardate qua esatto ci arrivano anche mammut e altre forme comunque si può la sua presenza si può capire dalle decenniche sotto sulle ossa dall'altro eo fauna ha fatto un magnifico lavoro su questo faccio vedere è costruzione di palleroxidon come hanno fatto perché veramente impressionante decisamente decisamente anche perché ma c'è ma questo ma questo l'abbiamo capito ormai anche dietro le quinte diciamo abbiamo visto tante volte quindi ricostruzione osteologica miologica poi la pelle ovviamente sui sui proboscidati davvero non hanno rivali c'è poco da fare su questo già parliamo adesso di alcuni dettagli di questione ma come di costruire questi animali parliamo della proposita allora e tira fuori dei noterium o certo certo allora tolgo un attimo e tiriamo fuori il mio pupillo ecco qua allora ecco qua dei noterium allora la proposita è fondamentalmente un organo che serve sia per la raccolta del cibo sempre la manipolazione di oggetti sia per raggiungere l'acqua cosa importante perché gli alfanti non hanno una grande flessibilità e date quindi in un modo o l'altro devono bere e c'è poco da dire alcuni studiosi hanno suggerito che date le tracce che hanno lasciato sulle ossa gli elefanti attuali dove diamo l'immagine eccolo qua che dei noterium dove c'è avere proboscidi molto piccole simili possibili a quelli di tappi attuali che ha dei elefanti eh sì che è un'immagine abbastanza comune di dei noterium a dire il vero cioè si è veramente fatta largo nel tempo inizialmente poi dico cosa sarà cambiato c'è il problema però che comunque allora dei noterium a è probabilmente più agile di un elfante attuali perché ha un omero più corto e si fa vedere l'asso anteriore certo si ha un omero più corto a metacarpali più lunghi e la tibia prelungato e la capacità di fretta e luna è maggiore e però comunque potrebbe non essere stato sufficiente per permettere di raggiungere l'acqua anche se ne manca un collo più flessibile quindi anche o fauna ha ricostruito la proboscide comunque di una certa lunghezza per permettere di in qualche modo di bere che è necessario vedete che appunto la lunghezza della proboscide è comunque maggiore non è lunghissima ma comunque più lunga quella della ricostruzione che vedete tra l'altro in questo specifico modellino devo dire che dà l'impressione di un animale che sta anche diciamo strappando magari delle delle foglie dalla cima di un albero no cioè questa la proboscide così no così curvata da bene questa impressione devo dire a me piace particolarmente anche se va beh in realtà poi la posa in sé comunque dall'idea che stia camminando quindi quindi magari sta facendo un richiamo possibilmente interessante comunque l'uso di questa proboscide molto interessante e appunto guardandolo dal vivo ci si rende conto di quanto è più lunga rispetto al solito ed è anche molto spessa devo dire c'è rapportata soprattutto alla testa è piuttosto spessa ma infatti dei video ad essere relativamente piccola al portacopo altra cosa che li rende strani e meravigliosi se devo essere sincero allora ecco qua procedi procedi passiamo alle orecchie e metti il mammut oh certo allora mammut della steppa primissimo modellino dell'eopauna pezzo di storia devo dire meraviglioso anche questo degli effetti attuali che servono spalle calore e però è possibile che alcune forme stinti non avesse questa necessità anzi avesse la cesta contraria di conservarlo le dimensioni sono ridotte sulla base del luogo di ritrovamento del coge delle varie specie nello studio anche qua non ho detto sulla proboscide comunque proprio borsche pesa al massimo 2,5 per cento della massa totale quindi un errore non è significativo stessa roba per le orecchie e noi attualmente abbiamo le orecchie di solito specie 4 contando ovviamente anche l'elefante di foresta sono l'elefante di foresta quello di boscaglia quello asiatico questi li abbiamo sono vivi e ovviamente il mammut lanoso se confrontiamo il mammut lanoso ha orecchie che pesano circa un chilogrammo l'elefante geratico pesano 6 chilogrammi e mezzo l'elefante africano pesano 9 chilogrammi quindi a seconda dell'ambiente è probabile che anche gli elefante stinti avesse orecchie che erano proporzionate alle dimensioni certo pelliccia eccola qua allora ci parte dal allora intanto la presenza della pelliccia si basa sulle caratteristiche anatomiche che indicano altamente al freddo per esempio la lunghezza della coda l'età è che ad esempio questo il mammut della steppa cioè relativamente corta questo perché naturalmente le estremità congelano si calcola superficie corporea e la massa estimata di 4 chilogrammi per metro quadrato per mammutus primigenius che è normale mammut lanoso di tipo europeo invece la massa estimata a solo due chilogrammi per il mammut della steppa questo perché perché mammut della steppa è molto più grande di quello lanoso potete vedere quel confronto locomozione metti pure dei notarium ecco una sorpresina vedete sì un elefantino che carino perché l'ho messo così perché a causa di una serie di limitazioni anatomiche gli effetti attuali assieme ai bradi per i sogni riusciti ma mi ferite arresti sono incapace di corsa e le caratteristiche che gli impediscono di correre sono osservabili a maggior parte forme estinte l'eccezione per i più basali quindi è improbabile che la loro modalità di locomozione fosse tanto diversa tra il peggio estinte e gli noteridi sono qualissimo la più presenta adattamenti per un moto veloce o almeno più agile degli elefanti attuali in particolare anche adattamenti che sono simili a quelli degli altri dattili quindi hanno più mobilità tra scappo all'omero e quindi una spinta supplementare durante la camminata infatti potete vedere se questa da questa gif che anche se è un elefante anche se è piccolo questo elefante stiamo parlando di un elefantino e non stacca mai non non corre perché corsa vi ricordo corsa significa con tutti i quattro gli altri staccati da suolo questo elefante non stacca mai tutti gli altri da suolo no e non dipende le dimensioni perché voglio dire un bovino da una tonnellata stacca gli altri da suolo uno c'è un 3 tonnellate stacca gli altri da suolo l'elefantino anche se è più piccolo non stacca gli altri da suolo chiaro chiaro capito interessante ma è questa cosa si riflette fra l'altro in questo modellino di denoterium nel senso che è fondamentalmente l'unico modellino ad avere ad esempio i due arti leggermente sollevati nel senso che ha un'apparenza un po più come si dice un po più agile rispetto agli altri che sono veramente delle bestie pesantissime anche nel modo di camminare no cioè questo sembra che stia avendo un passo più più leggero e più veloce possibilmente rispetto agli altri cioè non so se ne conviene in questa in questa cosa e se pensi che magari eufauna abbia proprio ragionato in questi termini quando ha deciso di fare la posa del denoterium sì sì può essere parliamo vuoi mettere anche tutta età per questo argomento allora un attimino che qua è come dicevo prima sì il proverbiale elefante nella stanza qui ne abbiamo tre in realtà ce n'è un altro di cui ancora non abbiamo parlato può mettere anche quello in realtà così a meno mostriamo perché non c'è tantissimo materiale su quello ah in effetti allora 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 fra gli altri che ho per l'appunto c'è anche il nuovissimo cono bellodon questo è il modo in cui viene spedito con due plastic tray che devono preservare diciamo l'orientamento delle zanne quindi adesso lo sta li stacco in diretta per voi ecco qua ed ecco qua questo è il nuovissimo cono bellodon 2022 altra vestia decisamente impressionante tra l'altro non è grande quanto gli altri eh però è anche vero che è quello con l'aspetto più particolare forse uno di è uno dei motivi per cui ho voluto diciamo che fosse inserito nella mia collezione personale allora lo metto qua così loro sono belli esposti gli altri e di e dici la tua ok parliamo di semplice eccezionale perché effettivamente lo fa un e tende a fare esempi eccezionali e quindi parliamo di quelli allora c'è un solo mammifero che ha un ampio compionamento di individualità superiore alla norma indovina un po' qual è paraceraterium no no come un mammifero un mammifero con un ampio campionamento di individualità superiore alla norma ah l'uomo esatto allora e tomo sapiens e gli elefanti sono all'incirca gli stessi cambiamenti all'aumentare dell'altezza e sono per esempio i piaci più lunghi il capo più piccolo ecco e così nello studio sono stati sviluppate delle statistiche dai giocatori campionati di pallacanestro americano e per creare una curva e stabilire effettivamente come cambiano gli elefanti alla metà delle dimensioni quando abbiamo sempre appunto fuori scala perché l'elefante più grande l'elefante africano più grande stimato se quello normale ad esempio c'è una coppia uguale di un elefante africano normale esempio in alcune aree sono effettivamente elefanti di dimensioni superiore alla norma e le loro proporzioni sono differenti chiaro ok e questo come incide appunto sul come incide appunto sulla ricostruzione perché a questo punto sulle ricostruzioni no perché ovviamente non è che sappiamo non c'è non c'è ci fossero più ricostruzioni ma penso sia già difficile che ci sia ricostruzione di una specie di elefante per l'orificio c'è più ricostruzione di più esemplari di quella specie di elefante dato che l'animale italiano devo aver fatto un piccolo excursus prima parliamo un attimo del mammut dato che non l'abbiamo l'abbiamo parlato pochetto e allora intanto come ha detto Matteo questo è un animale comunque il mammut della steppa raggiungeva dimensioni veramente considerevoli stiamo parlando di un di un animale che probabilmente aveva una altezza spalla di quattro metri un femore lungo un metro e mezzo e una massa di circa 12 tonnellate e di questo sappiamo anche che le forme asiatiche erano più più massicce cioè di esempio la ghiaccia di mammut della steppa massicci con gli europei per quanto riguarda il cono bellodon vuoi che lo affianchi a qualcun altro? no 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 da solo? si ok allora aspetta che prendo il cono bellodon da solo ecco qua perfetto allora questo è il cono bellodon visto dall'alto vedete ad esempio contro l'argo e il busto anche in confronto agli altri allora come ho detto il non abbia in realtà appartiene agli ame bellodonti quindi vicino a forme come i platti bellodon però sono stati spesso avvicinate il gonfotelio come ho detto un esemplare di gonfotelium ha le pelvi che sono praticamente larghe il doppio del femore fatevi due calcoli direi ecco qua proporzionalmente infatti cioè non dico scienze assoluto però proporzionalmente questo è probabilmente il più largo talità specie proporzionalmente alle lunghezze del femore torna pure con la camera normale che scippare il paloro allora lo metto subito in evidenza e io cerco il bestione comunque questo così è avendoli tutti davanti è impressionante cioè è il più impressionante di sicuro della linea fauna al momento poi il tutto dipende anche da preferenze cioè io come ho detto ho voluto il denoterium perché è un animale a cui tengo molto però è veramente veramente impressionante a livello visivo anche a livello tattile vi posso dire per chi ad esempio ama anche questo aspetto dei modelli ed è anche quello che si impone di più rispetto agli altri cioè ha un senso di anche aggressività e ne approfitto mentre appunto vedo cercare le immagini i dettagli sono anche favolosi guardate l'interno della bocca si possono vedere i denti il modo in cui è scolpita la proboscide perché ok le zanne sono la parte più evidente però è veramente fantastico oltre ai dettagli della pelle vediamo se riesco ecco cioè Leister direi che come acquisto non è affatto male vero? sei soddisfatto suppongo? si si allora 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 mi pare che tu abbia messo qui ecco qua questo è lo scherzo guardate su foto un uomo e questo non è neanche un exemplare particolarmente grande è un maschio di circa 50 anni e alto 3 metri e mezzo alla spalla e poi si hanno fatto nell'altra e già ne parla l'oxodon di cui adesso faccio una specie di excursus in quanto appunto è un'eccellenza italiana anche si è sviluppato in africa dal primo forma c'è per l'orso di orecchie raggiunge l'oragia va a cercare il piesto cene iniziale l'oragia si diversifica ed origina molte specie incluse le forme nane nell'eserio mediterraneo è tradizionalmente ritenuto vicino all'elefante asiatico però hanno fatto un'analisi mitocondriale e risulterebbe che questo animale è più vicino all'oxodonta ciclotis di quanto lo sia l'oxodonta africana quindi se è più un'elefante di boscada se è un po' l'oxodon ok ok volendo se è corretta è un po' l'oxodon assurdo ok ok questo è interessante e comunque non non è chiarissimo perché nella storia di mammiferi ci sono tantissime ibridazioni e cose del genere quindi è un po' complicato però devo avere avuto là comunque il paradoxo è l'anticus cioè l'elefante ha le zande dritte è vestito in pezzo cene in mediotardo è molto robusto come vedete è robustissimo come struttura perché c'è uno degli elefanti più robusti in assoluto è alto anche 4 metri alla spalla con un peso del maschio di 30.000 kg gli esemplari gli spagnoli sono circa 20% più grandi che gli italiani e ci sarebbero resti che però sono andati persi quindi prendetelo un po' come viene gli esemplari che sarebbe alto 4 metri 60 e pesa 19 tonnellate sono curioso di una cosa perdonami ma per questo modellino visto che ho fa una spagnola che cosa quali sei signorato nel cartellino dove c'è scritto dimensione che ha allora te lo dico subito c'è scritto lunghezza 7 metri e mezzo peso 15.000 kg e dice luogo Europa vi faccio scusatemi già che ci siamo la mostro così ecco questa è la carta io la lascio ancora imbustata per per l'Eister però questa è la carta e c'è anche l'etichettina con un meraviglioso se mi dasci se mi dasci un attimo di controllo che esemplare dovrebbe essere perché alla fine del paper se volete recuperarvi il paper che è dico io l'ho scelta per fare un'esposizione perché è estremamente chiaro come articolo c'è una lista di esemplari c'è una proprio grafica c'è una schetta di praticamente tutti gli esemplari considerati nello studio penso sia questo qui l'esemplare di qui c'è francese qui di montrell serve un maschio di circa 50 anni di età con un numero stimato di un metro e 35 centimetri alto 4 metri e 20 alle spalle vediamo se riesco a mostrare nella card come si come il rapporto con un uomo ecco qua è un po' difficile capirlo rispetto a quello del disegno però pensieri sì che sia quello una una bella bestia una bella bestia decisamente e comunque vabbè appunto adesso devi continuare anche perché dobbiamo metterci un pezzettino d'Italia suppongo e come ho detto ci sono sviluppate le forme inane di questo elefante ed ecco qui appunto il quale è l'oxo non falconeri guarda che carino che è e sì l'ho visto anche e l'ho visto anche un paio di volte bestiolina adorabile e l'ifante no siciliano intanto abbiamo molti esemplari ce ne sono ben 104 neanche una sola grotta e anche gli animali su cui forse sono andate leggendo i ciclopi e comunque oh sì vabbè questo è questo è un discorso abbastanza interessante anche perché appunto viene da zone che frequento abbastanza spesso quindi ci può stare come idea allora dai andando sulla realtà comunque aveva circa 110 centimetri da spalla e pesava 300 kg questo parola di un maschio e tre piccoli proprio scendati ma gestiti perché è il peso di un maiale di grande taglia e anzi adesso vi faccio vedere una cosa abbastanza divertente questo è il più piccolo elefante mai trovato è un cucciolo neonato e quello accanto è un piccione e quello accanto è un piccione che tenerino guardalo veramente anzi poi non è che diventasse tanto più grande quindi devo dire fa fa impressione cioè ovvio diventa molto più grande rispetto ovviamente al cucciolo però è proprio un elefante nano non c'è poco da fare fra l'altro forma che si è sviluppata praticamente solo in quelle zone e si è estinta effettivamente qualche tempo prima dell'inizio delle colonizzazioni fondamentalmente anche per questo anche per questo appunto i coloni greci che arrivarono appunto prima di tutto a Naxos che effettivamente Naxos se non ricordo male nel 725 735 avanti Cristo arrivarono in Sicilia quindi fondamentalmente già avevano appunto questi resti queste ossa non avevano non hanno mai visto questi animali vivi effettivamente quindi questa è una cosa abbastanza interessante che si riconduce anche col discorso che facevi tu appunto sui ciclopi comunque scusami non volevo divagare continua nessun problema anzi già che ci sono ne approfitto per mostrare perché mi piace molto come designer il ciclopo e il videogioco di Argon Strogma che festeggia dieci anni lo metto solo per quello in questi giorni e mi piace molto perché il design è molto dell'elefante cioè non è solo un uomo con un occhio solo cioè è lì è molto dell'elefante comunque tornando agli elefanti veri alla parte di l'elefante più piccolo però nel Genepo dell'Oxodon c'è anche quello che è attualmente questo dato è l'elefante più grande in assoluto l'Oxodon Amalicus è quello che dovrebbe diciamo aver interrotto il record di Paracelaterium sì sì questo è lo studio questo è proprio lo studio che avrebbe creato questo appunto sul fattit della Paracelaterium però vi ricordo una cosa non è solo questo anche per così dire mammut brosconi o zigolofodon brosconi quello che ho già nel norme che abbiamo visto all'inizio però vi metto secondo questo studio anche questo suprame stazza Paracelaterium ah ne approfitto sono curioso di vedere una cosa perché io ho il Paracelaterium quindi perché non approfittarne stavo guardando questa cosa allora qui ovviamente ecco questo è anche un discorso abbastanza interessante per quanto riguarda la scala perché allora ecco che peraltro non stanno tutti in camera giustamente io non credevo però potrebbe starci effettivamente e ovviamente questo diventano Anticus questo qua non sì sì no questo è Anticus per me potrebbe starci anche perché vi ricordo probabilmente è un Maticus noi non abbiamo nostri completi vedete quanto abbiamo niente quasi niente decisamente e poi in mente le proporzioni possibili a Recchi che è più slanciato di Anticus anche se c'è perfino chi dice che Anticus e Nomaticus sono lo stesso animale e quindi torniamo a discorsi esemplari più grandi sono più slanciati di quelli più piccoli certo ok che è quel discorso di giocatori da basket essenzialmente esatto e comunque stavo dicendo il femore di un esemplare lungo un metro e mezzo l'altezza a quattro metri e sarebbe ovesse che indicherebbero femori da un metro e sessanta a terzi di quattro metri e mezzo peso sui treci tonnellate o anche un femore da quasi due metri altezza di cinque metri passa e peso di 22 tonnellate sono versi e frammentari poco studiati quindi prendetela un po' con come si dice come un granus e adesso vi mostro la ricostruzione a tutte le ricostruzioni che vi ho mostrato sono di per story by Liam artista bravissimo che ha fatto una galilea di proposito che mi invitano a vedere questo è Nomaticus e questo è Nomaticus film confronto a falconeri no niente è nello stesso genere come si fa a non amare come si fa a non amare falconeri c'è poco da fare no fantastico fantastico stiamo parlando comunque di creature eccezionali stavo però facendo adesso faccio un po' faccio un po' come si dice il rettiliano mettiamola così no si vogliamo fare il rettiliano aspetta aspetta che arrivo sul rettiliano lasciami che vado sul rettiliano allora mi trovo proprio un divano allora come ho detto c'è una netta differenza cioè sarebbe almeno le stime che avevamo quando è stato fatto questo paper si pensava che in ogni caso la stazza fosse superiore a quella di parceraterium ok perché parceraterium ha stimato essere come vede questo paper sulle 17 tonnellate mentre questo pallo all'occhio sulle 22 tonnellate che la stazza di pallo all'occhio sarebbe all'incirca come quattro elefanti africani mamma mia è stata usata come unità di misura il t-rex come mai cosa succede perché la pietra grafico grafico io sono informato per questo per questo sono più giornalista italiano però questo è un diplodocus pensava come due diplodocus ok ok interessante senti senti ma a questo punto posso mostrare allora ci sta però attenzione sarà difficile metterlo tutto in camera ragazzi che è impressionante questo è il diplodocus fauna su walking white c'è scena oltrepassa telecamera non so se è presente e beh quelle del documentario quello della parte sul giurassico se non ricordo male no? sì allora ecco qua allora lo metto in evidenza ragazzi cioè allora devo metterlo però ecco meglio così cioè guardate la bellezza di questo diplodocus posso dire senza alcun problema che è una delle cose più belle che abbiamo mai visto cioè uno dei modellini più belli che abbiamo mai visto non ci sono foto che rendono giustizia al modellino le le scelte del colore sono fantastiche poi ci sono un sacco di passaggi un sacco di macchie le squame sono fantastiche così come i tubercoli così come le spine dermiche tutto veramente bello e poi ha un movimento naturalissimo ovviamente qui stiamo parlando di proposci dati e devo dire vorrei fare una prova un attimino se si può vedere con la cam sopra ecco guardate come è snello piacciava comunque meno anche dell'anticus cioè esatto cioè già con l'anticus c'è differenza e lo si vede anche qua si vede benissimo proprio guardando questi due modellini fra l'altro non oso immaginare appunto con il l'amaticus cioè una roba pazzesca appunto i fatti ma non temete fan dei dinosauri perché questo è l'antimino che non è un sauropodio particolarmente massiccio se invece paragoniamo a tipo patagotitan o qualcosa del genere eh sì dai non è cioè non raggiunge comunque la taglia dei sauropodi beh diciamo che comunque c'è poco da fare alcuni sauropodi raggiungono dimensioni che nessun mammifero ha mai raggiunto esatto questo è è innegabile e rende ancora più affascinanti i dinosauri che ti chiedi come potesse essere nata o qualcosa del genere se vuoi posso anche spiegarti perché però non so se vogliamo andare avanti in che senso allora se puoi fare una parentesi dove eh dove fare una parentesi per spiegare perché una parentesina ci può stare non è un problema anzi io ti rimetto te li metto qua in bella vista e e procediamo magari con una piccola parentesi poi ricominciamo con i provoscidati non è un problema no ma che provoscidati ho finito ah direttamente proprio sì sì con provoscidati io avrei finito andiamo quindi se vuoi posso direttamente ai dinosauri allora perché i dinosauri sono così grandi e perché gli elefanti sono così piccoli vediamola così allora diciamo che i dinosauri altri trasferimenti poi in mente da dall'evoluzione sono trovati per caso con una scelta edattamenti che la vista sistemamente favorevole raggiungere grandi dimensioni allora partiamo dal fatto che hanno potuto realizzare la postura colonnale di arti a differenza degli altri rettili e il suo ruolo di soli un cittadino che hanno realizzato una vera e propria postura colonnale dell'altro anteriore perché gli altri gli altri dinosauri comunque manteniamo la flessione dell'altro anteriore di ceoropodi no e questo è un vantaggio che i dinosauri hanno rispetto agli altri rettili e che i ceoropodi hanno rispetto agli altri dinosauri per secondo c'è fatto che i ceoropodi hanno una testa piccola sul lungo collo questo può sembrare paradossale ma pensateci un attimo quanto può diventare grande la testa di un elefante prima che le vertebre del collo ne risentrano troppo perché ricordatevi il volume aumenta esponenzialmente pensate anche i più grandi erontischi che sono i più grandi dinosauri dopo i ceoropodi nessun grande erontischio è superato da 20 tonnellate anche perché come gli elefanti avevano complesse batterie ai denti per masticare i ceoropodi no un sauropodi è una bocca ficcata in cima a quello lungo sì niente di più e anzi bisogna dire la testa può sembrare piccola ma la patria bocca di brachiosaurus è comunque maggiore di quella di un elefante loro non masticavano non avevano bisogno di masticare prendevano perché li strappavano e mandavano giù esatto quindi non doveva neanche perdere il tempo a masticare come effettivamente per fare dei mammici potevano utilizzare in maniera più efficiente scusate livello di dettaglio che sciorricio a parte il fatto che in questo si vede anche c'è anche un riferimento al becco corneo diciamo già di ultima concezione no vabbè i dettagli cioè se pensate che la testa è piccolissima in questo modello e i dettagli sono spaventosi cioè niente è una roba vi assicuro che è uno dei modellini più belli che abbiamo mai visto c'è poco da fare cioè Eufauna non è una ditta che diciamo vanta una produzione diciamo estesissima ma quando li fa ma quando li fa non ce n'è per nessuno lo dico tranquillamente sì 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 guardate qua veramente fantastico allora scusami continuo continuo che voglio dire una testa piccola sì 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 una testa piccola che problema ha come fare ad aggiungere il cibo e allora qua andiamo su un altro allattamento dei dinosauri cioè il fatto che loro avessero il collo pneumatizzato da saccare il collo e poi il resto del corpo della scherza sale pneumatizzato assile oddio vabbè comunque si dica no non ce la faccio controllare in questo momento è uno di quei momenti assurdi in cui non ti ricordi come si dice una parola vabbè può succedere dai le sille vertebre erano pneumatizzate sia internamente sia esternamente da saccheri che la legge arriva in maniera asciuda le vertebre dei seropoli che sono confronti con gli elefanti erano praticamente impalcature perfette di come un ponte sospeso fondamentalmente hanno tolto tutto quello che non serve lasciano solo i punti di forza di scarico delle forze e così permettere di essere leggeri in confronto alle dimensioni terza cosa e come sono fatte le articolazioni questa è bella perché una volta il ponte oggi pensava che questo fosse un segno di inferiorità ai dinosauri ho fatto una rapida ricerca e questo dovrebbe essere un femore come vedete comunque il femore è composto da varie parti che si fondono con l'età e questo indica l'età questo è un femore di essere umano ma soprattutto il femore è caratterizzato dalla complessa geometria nelle parti terminali e perché questo è perché perché praticamente dove ci sono le articolazioni ci sono delle sorte di rivestimenti di cartilagine che servono a ridurre l'attrito durante il movimento altrimenti ci distruggeremo le ossa perché sfragherebbero l'una contro l'altra purtroppo i mammiferi hanno deciso dico purtroppo purtroppo per i grandi mammiferi hanno deciso di raggiungere grandi dimensioni aumentando l'efficienza del contatto dell'incastro tra le articolazioni questo è perfetto fino a un certo punto finché raggiungono dimensioni tali perché purtroppo queste capsule di cartilagine si riducono per aumentare questo contatto e quindi arriva un punto e qui non possono ridurre ulteriormente perché altrimenti praticamente le ossa andrebbero a fare attrito cioè è grave gli sportivi sanno cosa significa se le ossa fanno attrito tra loro non è una cosa positiva e i metri dinosauri al contrario sono capsule cartilagine che continuano a crescere con le dimensioni e quindi l'articolazione della testa del femore sembrava delle ossa sembravano più primitive più semplici perché effettivamente sono più semplici e questa semplicità è segretta del loro successo perché non avendo quindi questo problema dell'attrito le capsule crescevano insieme alle ossa e quindi non avevano più problema di oddio ho aggiunto la dimensione tale perché non funzionano più certo certo per ultima cosa ci sono le loro inviate nei mammiferi c'è una specie di limite per cui più grande è l'animale più ridotta è la cucciolata anche più lungo il tempo di sviluppo del piccolo per cui gli elefanti hanno sostanzialmente rapporti sociali molto stretti per proteggere i piccoli perché un piccolo l'elefante è in netto fino a tantissimo a parte ci mette più di un anno per svilupparsi sulla gestazione ma comunque resta in netto per tantissimo tempo quindi l'elefante hanno enormi strutture sociali che servono fondamentalmente a impedire che il piccolo venga predato finché non raggiunge dimensioni tali da essere relativamente sicuro gli dinosauri hanno invece il problema apposto che le loro uova praticamente aumentano non possono aumentare le dimensioni definitamente perché altrimenti il gusto diventerà troppo spesso e il piccolo il cucino soffocherebbe quindi il risultato è che gli dinosauri più grandi ci fanno uova grandi fino a un certo punto le uova più grandi comunque sono quelle delle i pionici il cellulio il fantasma la cascata sì e quindi invece di produrre dato che le dimensioni si fermano là cosa fanno i sauropoli producono una montagna di uova come tanti rugaturali e quindi loro potevano fare queste nidiate di piccoli che però ovviamente date le norme di sparità di dimensioni tra piccoli e adulti non venivano accuditi che significa che il piccolo ha tutte le ragioni del mondo per diventare più grande possibile più in fretta possibile una ragione se no viene mangiato se no viene mangiato sopravvivere punto è chiaro deve diventare grande deve diventare grande diventare in fretta non può guardare la protezione adulto quindi anche qua è favorito sono favoriti i cuccioli più grandi sono favoriti quelli che riescono a diventare più grandi più in fretta sono favoriti appunto quelli che riescono a leggere dimensioni tali da togliersi dalla predazione certo mentre gli elefanti non hanno questa pressione predatoria anzi la curiosità mia sarebbe non perché perché certi elefanti sono riusciti a diventare così grandi cioè che pressione avevano io sicuramente non penso che nemmaticus avesse un predatore che lo spingesse a essere così grande quindi perché aspettiamo nuovi studi io comunque ne approfitto per dire una cosa il questa osservazione che vi ho fatto sulle dimensioni di sciolropoli derivano della lettura del libro di Anderakau tezza volume perché così non mi attribuisco mai che non sono miei ecco e beh direi che direi che Kau è una fonte inesauribile di conoscenza quindi perché non citarlo mi sembra più che giusto facciamo una cosa intanto volevo provare a mostrare di nuovo tutti allora intanto il diplodocus lo metto tipo qui perché tanto è lungo e si vede vediamo un pochettino perché comunque è un insieme di modellini veramente straordinario cioè averli tutti qui è fantastico allora questi sono tutti in 1.35 ricordiamo in teoria si ricordo bene l'elefante ma l'elefante comincia a parlare dopo una certa ora comincia a parlare colpi posso capirlo il mammut della steppe doveva essere 1.40 il primo che hanno fatto però non mi potrei sbagliare verifico dovrebbe essere scritto confermo confermo eccolo qua aspetta che lo metto 1.40 quindi risulta leggermente più sproporzionato rispetto agli altri beh non tanto perché potremmo essere sempre più piccoli sì questo è vero comunque gli altri sono vedo qua 1.35 veramente una line up impressionante e all'appello ovviamente mancano Atlasaurus il Triceratops ispirato a Yoshi Strike e Giganotosaurus animale direi direi abbastanza sulla bocca di tutti in questo periodo però veramente concentrarsi sui proboscidati o fauna è una cosa che mi interessava molto e devo dire che appunto Pietro ha fatto bene a sfruttare appunto il paper e a poter parlarne al meglio intanto torno un attimino a e giusto per anche mostrare diciamo come sono anche grandi rispetto a una persona ecco fatevi un'idea sono comunque di una certa dimensione il diplodocus ecco guardate il diplodocus quanto è lungo scusate va sì io a fare le misure della 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 no è è veramente incredibile come ho detto credo che questo nello specifico allora ho avuto modo di vedere il giganotosaurus e qualcosa forse mancava non so come spiegarlo era il primo dinosauro quindi effettivamente era molto diverso rispetto ai proboscidati ma questo è davvero incredibile cioè fate il livello di dettaglio spaventoso questo è un modello consigliatissimo così come lo sono appunto tutti i proboscidati ma questo non avevo bisogno di dirvelo perché direi proprio che quelli sono celeberrimi ad ogni modo io ringrazio Leister per la collaborazione diciamo quindi adesso io vi godrò due nuovi pezzi nella mia collezione anzi addirittura tre in effetti se comprendo il diplodocus o fauna che che devo dire non mi aspettavo fosse così bello e soprattutto è una cosa importante devo dire che da quando inizio da quando iniziato appunto paleo nerd il fatto che adesso abbia tanti mammiferi in collezione è un segnale interessante di quanto appunto parlare con persone appassionate con persone che studiano cambi un pochettino i gusti prima erano solo i carnivori poi un po' di dinosauri erbivori adesso pure i mammiferi devo dire che è una cosa molto bella perché così si apprezza la natura nel suo insieme ringrazio ancora tutti i partecipanti e alla prossima e alla prossima ciao